Ciao a tutti, oggi prepareremo il blue pudino Nesquik. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 6 ore di raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca per dolci, preparato tipo Nesquik Bimbi, zucchero e gelatina in fogli ammollata in acqua fredda. Diamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la panna, Nesquik, lo zucchero e la gelatina in fogli che abbiamo già ammollata in acqua fredda. La strizziamo con il coperchio e il misurino. Inizioniamo il Bimbi per 7 minuti, 90 gradi, velocità 5. Trasferiamo il composto negli stampini e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. una volta che si sono raffreddati, riponiamo in frigo per almeno 6 ore. i budini sono pronti, sformiamoli e impiattiamo. budino Nesquik. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!